Hai dei problemi a scuola? Non lo so, dimmelo. Io non devo dirti proprio niente. No, devi dirmelo invece. E perché devo? Tu non mi hai mai detto niente a parte una maria di stronzate. Quali stronzate? Vuoi sapere quali? Prima che con papà si sarebbe risolto tutto. Poi che Torino sarebbe stato magnifico. Eh? Proprio magnifico. Ma lo vedi che non ho un amico? Non ho una vita? Ho solo quella cacchio di bicicletta con cui faccio i soliti giri da solo come un deficiente. Non ho neanche una merda di camera in cui rinchiudermi per non vederti. Vattene. Ti odio, vattene.